I Carabinieri del Comando, Compagnia di Cosenza, nell'ambito delle attività di contrasto e reati di violenza di genere, nella giornata di ieri, 30 maggio, è stata eseguita, nei confronti di un quarantenne, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia e aborto preterintenzionale. I militari hanno localizzato e tratto un arresto a Turin, provincia di Bari, con il supporto della locale arma territoriale, presso un campo di lavoratori stagionali, l'uomo resosi responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna, a suo tempo convivente, una donna di 28 anni, sua connazionale. Le attività investigative intraprese dai militari hanno consentito di ricostruire la difficile e drammatica situazione familiare in cui versava la donna, nel periodo compreso fra giugno 2020 ed aprile 2022, a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del compagno. Le condotte poste in essere del quarantenne sono addirittura sfogiate nel cagionare nell'estate del 2020 un'interruzione di gravidanza dopo le violenze subite dalla donna. Alla luce di quanto accaduto, il GIP presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stata disposta nei confronti dell'indagato la custodia cautelare in carcere. L'uomo si trova attualmente presso la casa circondariale di Bari.